Che tipo di controlli stanno facendo? Ci hanno solamente fatto compilare una modulistica, appena scesi dal treno ci hanno chiesto da dove venivamo e ci hanno detto di avvicinarci al box loro per compilare il modulo provenienza da, destinazione da A. Io venivo da Verona, mi dovevo tornare a casa, abito a Roma, con il numero del documento e la carta d'identità. Ti risulta che tutto il tuo treno sia stato fermato? Sì, in pratica appena scesi ci hanno chiesto, ci hanno fermato appena scesi e ci hanno chiesto da dove proveniva il treno, da dove venivamo. Sì, penso di sì, poi se qualcuno è uscito andando via... Non ci sono controlli campione? No, 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 ci hanno richiesto da dove viene il signor da Verona, si ferma per favore a compilare la modulistica nel box. Dove sei diretta? Io, Bologna. Non hai paura? Molta. Come ci devi andare per forza? Perché mamma deve avere un intervento. Lì, sei molto male? Sì, lì. Signora, mi dice la sua figlia che è costretta ad andare a Bologna. Eh sì, mi devo operare. Poteva in nessun modo rimandarlo questa appunta? No. E ti morire ha paura? Insomma, pensa che la mascherina sia lo strumento giusto? Eh, paura ci sta, però se mi vede l'infarto che faccio? I dottori gli hanno detto che non si poteva rinviare, ha provato lei a richiedere un rinvio? Di partire stamattina. L'ho chiamato ma mi ha detto che lui partiva e che dovevo partire anch'io. Partiva anche senza... È il dottore, sì. Sì, ci vediamo su. Partiva anche lui.